In questa quarta parte dell'articolo Birindelli difende la libertà di espressione proprio in senso assoluto. Libertà di espressione vuol dire libertà di espressione. Nella sentenza Sullivan, la Corte Suprema degli Stati Uniti, per quanto rappresentasse un passo avanti importantissimo a difesa della libertà di espressione, aveva due grossi limiti. Non ha garantito una libertà di espressione assoluta e ha garantito una relativa libertà di espressione solo nei confronti dei pubblici ufficiali e non invece anche nei confronti dei privati cittadini. Infatti i casi di diffamazione fra privati continuavano ad essere regolati dalla Common Law, che era estremamente ostile alla libertà di espressione. Dice Birindelli, il limite della sentenza Sullivan sta nel fatto che ha inteso la libertà di espressione come libertà di espressione nel caso in cui è a condizione che. Mentre invece libertà di espressione vuol dire libertà di espressione in tutti i casi. Cominciando dalla libertà di espressione nei confronti di chiunque. La libertà di espressione è una. Gli stessi motivi che hanno indotto la Corte a difenderla nei confronti dei pubblici ufficiali valgono anche nei confronti dei privati. Altrimenti vuol dire difendere un principio generale soltanto in alcuni casi. non c'è alcuna ragione per non applicare la regola stabilita dalla Corte nel caso Sullivan, valida solo per i pubblici ufficiali, a tutte le richieste di danni per diffamazione. Anche quindi la diffamazione tra privati cittadini. La seconda considerazione di Birindelli è che la libertà di espressione deve essere assoluta. Questo lo capirono infatti alcuni dei giudici della Corte Suprema del caso Sullivan. Infatti questi tre giudici, tre dei nove giudici, pensavano che la sentenza Sullivan concedesse troppo poca libertà di espressione. Erano infatti a favore di una libertà di espressione assoluta e cioè anche di poter affermare il falso sapendo che è falso e con l'intenzione di danneggiare il pubblico ufficiale. Quindi actual malice, effettiva malignità. Dice infatti il giudice Roberts della Corte Suprema degli Stati Uniti. Nel campo del pensiero politico emergono sempre marcate differenze. Chi cerca di persuadere altri del proprio punto di vista a volte ricorre all'esagerazione, alla diffamazione e perfino alle affermazioni false nei confronti di uomini che ricoprono ruoli di rilievo all'interno dello Stato. Ma alla luce della storia, nonostante la probabilità di abusi ed eccessi, queste libertà sono, in una prospettiva di lungo periodo, essenziali per un'opinione illuminata e per la giusta condotta da parte dei cittadini di una democrazia. Scrive Pilindelli che non ripete le sue riserve sulla democrazia totalitaria dove la volontà della maggioranza è legge, tra virgolette, con la L minuscola, perché non è la legge con la L maiuscola che è il principio generale, cioè quello che i libertari chiamano il principio di non-aggressione. Questa invece è un'altra legge, con la L minuscola, è la legge Fiat o positivismo giuridico, provvedimenti arbitrari e particolari dell'autorità politica. Spesso e volentieri contrari e in contraddizione con la legge con la L maiuscola che è il principio generale di non-aggressione. Tornando agli Stati Uniti, alle sentenze Sullivan e il giudice Black fece notare che la malignità malice è un concetto elusivo astratto, difficile da provare e difficile da confutare, che può essere utilizzato per limitare la libertà di espressione. Egli affermò che una libertà di espressione assoluta nei confronti pubblici ufficiali è l'unico modo per difendere la libertà di espressione. In questo è d'accordo con Jefferson, la libertà di stampa non può essere limitata senza essere persa. Scrive infatti Black che vota per ribaltare la sentenza della Corte Suprema dell'Alabama perché il New York Times aveva un diritto costituzionale assoluto e incondizionato di pubblicare le loro critiche ai pubblici ufficiali e alle agenzie di Montgomery, indipendentemente dalle cose scritte che fossero vere o false. Dobbiamo interpretare il primo emendamento fedelmente affermando che esso lascia la stampa liberi di criticare i pubblici ufficiali e di discutere di questioni pubbliche impunemente. Un Paese non può vivere libero quando le persone sono fatte soffrire fisicamente e finanziariamente per criticare lo Stato, le sue azioni e i suoi pubblici ufficiali. Quindi c'è un diritto incondizionato di dire quello che uno vuole a proposito delle questioni pubbliche. Questa è la garanzia minima del primo emendamento. Il giudice Black si rammarica che la Corte non abbia sostenuto questa libertà di espressione assoluta che è indispensabile per mantenere la nostra libera stampa dall'essere distrutta. Oggi purtroppo dice Birindelli negli Stati Uniti sta venendo il contrario a partire dai casi Bradley Manning e George Snowden che confermano che il giudice Black aveva ragione. Birindelli a questo punto fa notare l'incorrenza di pensiero dei civil libertari, anzi ma anche del giudice Black che sono dei collettivisti che in materia dei diritti civili come la libertà di espressione adottano standard morali libertari ma poi violano quegli stessi standard morali libertari nel caso particolare della difesa della proprietà privata e si riferisce al prelievo fiscale. Se è vero quello che dice il giudice Black, c'è una società che non può essere libera quando le persone sono fatte soffrire fisicamente e finanziariamente, allora bisogna riconoscere che non c'è libertà nemmeno quando c'è una progressività fiscale e una discriminazione fiscale che mantiene uno Stato delle dimensioni maggiori dello Stato minimo. E qui Birindelli apre un accenno, un approfondimento di quello che vuol dire Stato minimo, non arbitrariamente definito, la cui unica funzione deve essere la difesa in ultima istanza della legge con la L maiuscola intesa come regola generale negativa di comportamento individuale che deve valere per tutti, deve valere per lo Stato per primo e deve valere per tutti allo stesso modo. In sintesi Birindelli dice che l'unica forma di prelievo fiscale che può avere un senso è quello minimale per mantenere uno Stato piccolissimo che ha un solo compito, quello di mantenere le istituzioni a difesa della legge come principio generale di non-aggressione. Quindi concludo i Birindelli, non bisogna difendere solo la libertà di espressione assoluta ma bisogna tutelare in modo assoluto anche la proprietà privata, riducendo al minimo il prelievo fiscale, idealmente andrebbe proprio abolito il prelievo fiscale, altrimenti la nostra libertà verrà distrutta. Da questo punto di vista Birindelli ricorda le incoerenze dei civil libertarians, in particolare del giudice Black che fu nominato dal Presidente Roosevelt e il Presidente Roosevelt fu quello che nel 1933 confiscò l'oro dei cittadini americani, quindi altro che difesa assoluta della proprietà privata. Comunque, almeno in materia di libertà di espressione, le loro posizioni erano in difesa di una libertà di espressione assoluta, non solo dei pubblici ufficiali ma nei confronti di chiunque. La libertà, dice infine di Birindelli, è quella condizione dell'uomo in cui la coercizione fisica di alcuni su altri è ridotta alla sola difesa di regole generali e negative di comportamento individuale, valide per tutti allo stesso modo. E qui si torna al libero mercato delle idee, un libero mercato delle idee e delle affermazioni presuppone che all'interno dei legittimi diritti di proprietà di ciascuno le persone possano dire, scrivere e disegnare con ogni mezzo quello che vogliono ed esprimere il proprio pensiero senza alcun impedimento. Infine Birindelli spiega con un esempio cosa significa all'interno dei legittimi diritti di proprietà di ciascuno. Fa l'esempio di una persona che durante la proiezione di un film in un cinema si mettesse a parlare a voce alta. Sarebbe certamente da condannare e da allontanare dalla sala ma non perché si vuole limitare la sua libertà di espressione ma perché quella persona violerebbe le regole stabilite dal proprietario del cinema, cioè violerebbe il rispetto dei diritti di proprietà del proprietario del cinema. Perché impedirebbe il normale svolgimento della proiezione del film. Birindelli passa poi a considerare in rassegna una serie di obiezioni che non hanno fondamento, obiezioni alla libertà di espressione assoluta, obiezioni che vanno di moda fra i collettivisti. Una di queste obiezioni, l'abbiamo già analizzata a fondo, è quella che non si dovrebbe lasciare libere le persone di accusare qualcun altro dicendo cose false. Abbiamo già visto che invece è il caso di permettere anche l'accusa fondata su cose false perché, diciamo così, è il male minore. Censurare invece l'espressione di cose false porterebbe a danni molto più gravi. Vediamo adesso le altre obiezioni alla libertà di espressione assoluta. Il diritto alla reputazione. Come spiega Murray Rothbard, non esiste alcun diritto alla propria reputazione, in quanto questo diritto presupporrebbe un diritto ad un particolare pensiero di altre persone. La Corte Suprema invece, in relazione al caso Sullivan, aveva cercato un punto di equilibrio fra libertà di espressione nei confronti dei pubblici ufficiali e il cosiddetto diritto dei pubblici ufficiali alla salvaguardia della loro reputazione. Ed è per questo che la sentenza Sullivan è incompleta. Birindelli torna a ribadire che in una società libera è lo stesso mercato delle idee, delle opinioni, delle affermazioni e della credibilità, che è più che sufficiente a difendere la reputazione degli individui e delle organizzazioni. Se le persone fossero lasciate libere di esprimere le loro opinioni, la reputazione dell'agenzia delle entrate, per esempio, si mostrerebbe immediatamente per quello che è. Quindi rileggiamo, è lo stesso libero mercato delle idee, delle opinioni, delle affermazioni e della credibilità ad essere più che sufficiente a difendere le reputazioni degli individui e delle organizzazioni. Altra obiezione è quella dei discorsi offensivi, che non ha senso perché se il criterio dell'offensività fosse applicato coerentemente, qualunque espressione del pensiero potrebbe essere censurata e punita. Ciascuno, infatti, può sentirsi offeso per infiniti motivi diversi. E' un concetto individuale. Dice il giudice Harlan, ciò che per qualcuno è vulgarità, per un altro è lirica. Per esempio, un libertario troverebbe offensivo che si parli di giustizia sociale, perché questo presuppone il saccheggio legale, il furto e la violazione dell'uguaglianza davanti alla legge. Quindi la violazione della libertà. Ma offendersi per questo vorrebbe dire non essere libertari, vorrebbe dire fare lo stesso errore dei collettivisti, cosa che Birindelli non fa. E quindi non può trovare offensivo la limitazione della libertà proprio perché è stata la parte della libertà. E non si sognerebbe mai Birindelli di invocare la violazione della libertà per non sentirsi offeso. Birindelli ricorda un episodio, sempre negli Stati Uniti, il caso Texas contro Johnson del 1989, in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha giudicato incostituzionale una legge del Texas che rendeva criminale deturpare la bandiera, in modo tale da offendere le persone. Il caso di deturpare la bandiera, in modo chiaramente offensivo, è del tutto analogo a quello di pronunciare frasi del tipo Italia paese di merda, che invece come abbiamo visto da noi in Italia è qualcosa che viene punito regolarmente, come anche in Corea del Nord. Dopo ci tornerà Birindelli su questo parallelismo, questo paragone fra l'Italia e la Corea del Nord. Il giudice Brennan della Corte Suprema dice che se c'è un principio fondamentale alla base del primo emendamento è proprio che lo Stato non può proibire l'espressione di un'idea semplicemente perché la società la trova offensiva o spiacevole, nemmeno nei casi più odiosi, come quello della manifestazione neonazista che avvenne nel villaggio di Skokie, nell'Illinois, dove vivevano numerosi sopravvissuti dell'Olocausto. Birindelli ritornerà più avanti su quell'episodio della manifestazione neonazista quando parlerà di violenza psicologica. Adesso però affronta il tema della sicurezza nazionale, anche questa è un'obiezione spesso sollevata contro la libertà di parola, quello di difendere la sicurezza nazionale, quindi anche la stampa deve fare i conti con questa sicurezza nazionale. Pensiamo ai casi dei whistleblowers, come Ellsberg nel caso dei Pentagon Papers, Manning per la collateral murder e Snowden per la datagate. Sono tre personaggi che hanno diffuso notizie che sono state considerate pericolose per la sicurezza nazionale e quindi condannati dallo Stato degli Stati Uniti. L'obiezione di limitare la libertà di parola per motivi di sicurezza nazionale è sollevata dai collettivisti di destra e di sinistra, in special modo dai parassiti con responsabilità di governo. Il termine sicurezza nazionale ha una valenza collettivista simile a quella del termine giustizia sociale. Presuppone infatti che la nazione esista come unità fisica e inoltre antepone la sicurezza della nazione, ammesso che esista, a quella di singole persone e al rispetto della legge intesa come principio. Dunque parlare di sicurezza nazionale ha lo stesso senso logico che parlare di giustizia sociale, cioè nessuno, non ha nessun senso. L'unica sicurezza è quella dell'individuo, cioè quella condizione dell'individuo in cui lui è protetto dalla violazione da parte di chiunque altro della legge intesa come regola generale negativa di comportamento individuale, valida per tutti allo stesso modo. E quali sono le organizzazioni che più di tutte le altre compromettono e violano la sicurezza dell'individuo? Sono proprio gli stati e sempre più spesso lo fanno in nome della sicurezza nazionale. La sicurezza nazionale è diventata un pretesto per violare la libertà di parole e di stampa e per estendere il potere assoluto dei governi. In molti casi la Corte Suprema degli Stati Uniti si è inchinata di fronte alla CIA e al pretesto di sicurezza nazionale, producendo un'eccezione al primo emendamento. I pretesi bisogni di segretezza sono esagerati. Erwin Criswold, che ha discusso il caso dei Pentagon Papers per il governo, disse che non trova mai alcuna traccia di minaccia alla sicurezza nazionale derivante dalla pubblicazione dei papers e che è evidente a ogni persona che ha esperienza con il materiale segretato che c'è un'enorme sovrasecretizzazione e che la preoccupazione di coloro che segretizzano il materiale governativo non è per via della sicurezza nazionale ma per l'imbarazzo del governo, cioè per difendere il governo dall'imbarazzo nel caso in cui si sapessero le cose che combina. La deferenza della Corte Suprema nei confronti ai Presidenti, che tra l'altro nominano i membri della Corte Suprema, quindi la deferenza sulle questioni di sicurezza nazionale, riflette la generale crescita del potere presidenziale nel XX secolo, quindi è un circolo viezioso. I Presidenti nominano i membri della Corte Suprema, la quale è indulgente nei confronti dei Presidenti. I Presidenti hanno usato il pretesto della sicurezza nazionale per nascondere l'attività vitale del governo dietro un manto di segretezza. Birindelli arriva quindi alla violenza psicologica perché c'è un'altra obiezione spesso sollevata contro la libertà di espressione, cioè che produce violenza psicologica. Può produrla e la violenza psicologica dovrebbe essere trattata come quella fisica, quindi la libertà di espressione dovrebbe essere limitata allo scopo di non causare violenza psicologica. Ora di Cipirindelli non ci sono dubbi che la violenza può essere anche psicologica e che si possa arricare intenzionalmente danno a una persona non solo con l'aggressione del corpo ma anche attraverso l'aggressione della mente. E qui riprende l'esempio che aveva accennato prima dei nazisti americani che nel 1977 hanno fatto una manifestazione in questa cittadina dell'Illinois dove c'era un'alta concentrazione di sopravvissuti ai campi di concentramento e hanno sicuramente esercitato violenza psicologica su queste persone. Tuttavia valgono le stesse considerazioni fatte sui discorsi offensivi. Per quanto amaro sia questo fatto, libertà di espressione e possibilità di violenza psicologica sono inscindibili, non è possibile avere la prima senza la seconda. Anche quando la violenza psicologica è esplicita, consapevole e intenzionale non può essere eliminata o anche soltanto limitata senza annientare la libertà. Pirindelli riprende un esempio sulla evasione fiscale e dice che l'evasore fiscale non può legittimamente ricorrere a una presunta violenza psicologica nei suoi confronti per zittire coloro che vorrebbero la sua persecuzione, cioè la persecuzione degli evasori fiscali. Nemmeno se i suoi persecutori facessero venire l'ulcera all'evasore fiscale o addirittura farlo morire da infarto. Quindi la violenza psicologica non può essere riconosciuta, mentre invece il ricorso alla violenza per reagire all'azione violenta da parte dello Stato è un altro discorso. Infine l'ultima obiezione è quella della violenza fisica, anzi non è un'obiezione per dire che la violenza fisica o la minaccia di violenza fisica è uno dei pochissimi casi in cui la libertà di espressione assoluta trova veramente un limite legittimo. Questo perché la violenza fisica a differenza di quella psicologica è illegittima e la sua minaccia può essere considerata una sua estensione, cioè la minaccia è un'estensione della violenza fisica. Birindelli riprende l'esempio dell'evasore di prima, dice se Tizio dice all'evasore Caglio che dovrebbe essere messo in galera, questa è una violenza psicologica che in realtà non può essere riconosciuta, quindi deve essere lasciato libero di dirlo. Viceversa il parassita Sempronio, che è un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che minaccia l'evasore Caglio di mandarlo in galera, sta esercitando violenza fisica perché o meglio minaccia di violenza fisica perché Sempronio ha veramente la possibilità di mandarlo in galera, in quanto dietro a Sempronio c'è la macchina coercitiva statale che è fisica e tangibile e quindi può veramente produrre un danno psicologico a Caglio. Quindi se lo dice Tizio che non è un funzionario dello Stato e quindi non ha nessun potere di mandare Caglio in prigione si tratta semplicemente di parole. Se invece lo dice Sempronio che è un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e può veramente mandare in prigione Caglio per evasione, allora si tratta di una minaccia di violenza fisica perché Sempronio effettivamente ha i mezzi, grazie alla macchina coercitiva statale, di tradurre la minaccia fatta a parole in una vera e propria violenza fisica, cioè mandare in galera Caglio. E Birindelli ritorna su questo ovvio limite legittimo alla libertà di espressione assoluta, cioè le parole strumentali alla violenza fisica. Fa un altro esempio, un pubblico ufficiale che desse a un suo subordinato l'ordine di saccheggiare la proprietà di una persona starebbe partecipando al crimine, anche se non partecipa fisicamente all'azione di saccheggio. In conclusione, libertà di espressione vuol dire non essere soggetti ad alcuna forma di coercizione per l'espressione del proprio pensiero. Significa poter comunicare quello che si vuole senza timore di essere fisicamente aggrediti e anzi con la ragionevole certezza che l'eventuale aggressore, soprattutto se è lo Stato, sarà perseguito e punito.